intanto scusate un po l'emozione ma sì in effetti fino a poco tempo fa fino a qualche ora fa per me era un sogno poter sedere con la panchina e quindi mi approfitto per ringraziare tutto il presidente zamparini che mi ha dato questa grande grande opportunità come ho detto prima fino a qualche ora fare un sogno ma adesso è in realtà sono felice di questo come detto prima ringrazio la società per per l'opportunità io la vedo come un'opportunità importante di crescita perché io amo questo questo lavoro e quindi non è assolutamente da vederla in maniera negativa ma soltanto un percorso di crescita per uno che vuole fare questo mestiere quindi un'opportunità da sfruttare anche perché alleno comunque una squadra di serie a importante ci tengo a dire che la fortuna è c'è un gruppo gruppo di giocatori che lavorano bene che hanno cultura del lavoro e questo penso che sia anche a merito di chi ci ha preceduto quindi parlano di ballardini e di di iachini in più ci sono tre quattro elementi che fanno un po da traino a questo gruppo che sono un esempio durante la settimana parlo di sorrentino di di maresca e di altri quindi quando un allenatore c'è comunque una base così importante un gruppo che lavora e c'è la cultura del lavoro insomma è un buon vantaggio ai risultati tu lo sai meglio di me che portano entusiasmo portano tante cose ma è qui dove si vede comunque la capacità di un gruppo di una squadra no dopo una prestazione importante saper dare continuità è forse quello che noi è mancato quest'anno perché dopo dopo una grande vittoria una grande prestazione c'è sempre stato una prestazione non non brillante quindi dobbiamo sicuramente farti solo di delle cose sbagliate ed è una partita dove sicuramente l'approccio diventa fondamentale perché troveremo di fronte una squadra che viene da quattro risultati utili consecutivi una squadra che ha cambiato molto ha ritrovato la sua identità che quella di di una squadra dei disidi di di sarebì che era abituata a lottare su ogni pallone quindi se noi mettiamo le stesse armi del carpi abbiamo grande possibilità di fare il risultato tante volte nel calcio no si ricordano quello che uno dà in campo invece io ho notato grande affetto sotto l'aspetto umano vuol dire che negli anni che sono stato a palermo la gente mi apprezzato non soltanto per le partite che ne ho fatte poche ma per quello che che era la mia professionalità la mia serietà quindi è ancora doppia la soddisfazione vedere comunque un'accoglienza vedere la gente felice del mio arrivo dopo aver vestito gli ultimi anni la maglia della mia città a 43 anni fare l'esordio d'allenatore che ti ripeto una cosa che amo forse più questo mestiere che quello da calciatore 43 anni fare l'esordio nella panchina della squadra della mia città penso che sia il massimo per qualunque palermitano io ho sempre avuto un rapporto molto bello col col presidente è sincero e se lui in questo momento mi ha cercato vuol dire che i rapporti e le ricordo la stima nei miei confronti è rimasto sempre tale io ero a casa ho ricevuto telefonata dalla società dove mi comunicavano che c'era il presidente che voleva voleva parlarmi voleva voleva sentirmi e quindi chiamato presidente mi ha fatto questa proposta quindi potete immaginare la mia reazione quale qual è stata che non ho non ho esitato neanche un secondo però è stato molto lo ringrazio che è stato molto veramente affettuoso nei miei confronti ha speso parole importanti lui sa quanto io amo questa maglia quanto ci tengo da questi colori quindi è stata una chiacchierata che durata durata cinque minuti ma io come detto prima all'inizio non la vedo soltanto come ok vado a sedermi nella panchina del palermo io voglio dare il mio contributo cercherò di mettere a servizio tutto quello della mia esperienza sia da dal mio vissuto da calciatore da quello di allenatore perché comunque ho fatto quattro anni anche in giro per per il per il mondo diciamo così quindi ho la mia esperienza e non la vedo soltanto come come dice stavo dicendo come l'opportunità andarmi a sedere in panchina io la vedo come una grande grande percorso di crescita e vorrei voglio trarre tutti i benefici di questa esperienza eccoci